Buongiorno a tutti! Scusa pure, però... Guarda, ma che brutte queste corde! Io dappiare una serie, c'è la po'. Non c'è la po'. Non mi ricordo di due che ho fotografato. Io? Non mi ricordo di due che ho già fotografato. Io? Non sono il debutto, mi sapevo. Si. No, però non so chi ho fotografato ora. Ah! Non ho stato attento, perché sono tutti e due. No, vabbè, così mi riuscirò la luce contro lui. Stai. Oggi per la parte! Oh! Ai, Ale! Eh! Come scorte, Ale! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.